pure nella pausa bene a tutti ragazzi io sono rosso e io sono a roma e oggi siamo tornati su non solo session, il gioco più bello del mondo con l'ansia che mi sta prendendo mi dimentico anche il titolo ecco mettiamo in chiaro una cosa io non ho visto né punti di salvataggio né checkpoint quindi è molto probabile che tutte le volte che chiudiamo il gioco dobbiamo riprenderlo da zero e come adesso si è andato a rifarlo per tre volte e ovviamente mi ha messo a me a giocare perché è un bastardo guarda come è contento guarda ed ecco ne uno questo non c'è più ma scusa un, due, tre, quattro, cinque, sette sette io li fa e poi li accoppia dicessi e fuori piove ashtambrunhamer provo ad andare con la stanza vivo è l'ultima stanza che vorrei andare a vedere simbolo dove? qua sotto la scala io c'ho un'ansia addosso tu è più ansiolitico guardare che sta lì a giocare ma ma nei commenti ragazzi voglio che mi scriviate se è più ansiolitico giocare o guardare i video cioè guardare i video tra tutte e due anche guardare i video tranquillo come te ansi sì sì dai 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 il problema è che se mi capita da dietro qualcosa o qualcuno e dissi che faccio il salto salto dalla fede altro che il sonditore no no ma è fumo fumo no è particelle da polvere è mia ma poi perchè uno deve essere in casa fu un demore un demore ma di più e perchè per prendere il coltello devi trovare dei simboli coltello non vedi che c'era un coltello dove è? è nella lontana in mezzo non ci fate caso quali siamo entrati? ok perchè insomma non metti in ansia di quelle che fanno paura ok si viena dai dai su scusa non ci ho fatto non ci ho fatto un'altra non è che magari sanno anche sopra qualche parte e sopra scenderemo in un futuro molto lontano Aspetta, aspetta, aspetta Porca, porca 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 Cos'è? Ma cos'è? Oddio È un sciolittico guardare Diceva Non farà niente non si può aspetta simon fuoco non fuoco fuoco perché fu duco fuoco fuoco oddio aiuto fuoco mi viene a ridere perché anche nella pausa aspetta registra è il pezzo di prima siamo morti no però abbiamo i simboli che cazzo è una merda io con la stanza non ci voglio tornare non ci tornare abbiamo già trovato il simbolo quindi non ci tornare però tu fai il zio Pino ma lascialo perdere secondo me devi salire per trovare altri simboli non è una spada si è un coltello potremmo difenderci eh Gesù potremmo difenderci forse me lo trovo io ho paura a tira fuori carioni finca se mi sono piaci male ragazzi questo gioco qua mette un'ansia dose aspetta almeno così può prendermi solo un certo me lo può mettere dentro solo da 90 gradi e io lo sento ma perchè ma perchè sto giocando io perchè tocca a te non è vero si che è vero ecco io è lì è lì è lì ma guarda dov'è? qua qua qui dove? lì è lì è ancora lì che cazzo? io clarion non lo attivo non so se lo manda via non so se lo manda via ma cosa fa il clarion non su di lui? è la domanda per me l'ho a chi? si può darsi ma sta lì lo vedi è lì? ma io non voglio lasciare contro se lo lascia ci vede ma allora non bollarlo ragazzi però che bella pubblicità ma te ne vai da lì si ma è ancora lì no sta buona stai buona si che sente gli ultrasuoni vieni qua dalle dito metti su quel control lì per favore tienilo che mi fa male il dito ah ah vabbè non riesco a capire se è lui o se no comunque sei un attimino piantala di fartela comunque quella lì è abbastanza il mio amico non riesco a capire ma ancora lì? ma perchè non si arriva? tranquillo vai a destra leggermente leggermente piano piano ancora ancora è lì piano piano ma non c'è nessuno lì è la porta stiamo scherzando no no c'è c'è non è la porta il cazzo di vai vai spostati non è la porta lui è lì dietro no per me l'ha sposto qua dietro no ma non voglio uscire anche io freddo oddio madonna perchè stiamo giocando a sto coso? ora avete capito perchè mette suggezione questo cazzo di gioco qua perchè lui ha tirato fuori il carrione e mi son cagato addosso e devo suonarlo e devo andare avanti per la finita per me me lo trovo dietro oppure qua direttamente qua lì lì sai che ce ne manca uno che non trovermo quella scherità lì non c'era che non trovermo mai guardiamo un video aspetta hai visto anche tu sulla luce? no 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 ok niente di che niente non metterlo mamma mia ma chi ci lo fa fare? agli easy perchè lo stiamo facendo? non lo so perchè io non lo sono venuto l'ora solo per quello è per quello è la vendetta di Simo che si è fatta su di me Simo mi ama egli mi ucciderà e pensavo fosse e invece era una a i affanculo è qui? non lo so è una cosa direi abbastanza impietante perchè non possiamo dire che non possiamo più verla qui non deve trovare almeno tutti i simboli potete aprire quella roba linda? tutti beh allora è tutto l'ultimo su dai lavori dammi una mano non so dove devo andare oggi abbiamo girato tutte le stanze fix it cioè trovalo 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 ragazzi ho paura no fixe sono mia il mio inglese o è dietro o è in parte? non lo so per me è in parte è in parte ah 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 no è dietro non ce la faccio non ce la faccio no no è una pausa fotte di culo dai no perchè io ti vado davanti ti muovi in mano cosa? dai dai chi sei? ci stupra muoviti io lo tengo al bene in mano oggi io ci sento dolore di tua madre ti va ragazzi questa collabora segnata da due amici che si stanno cagando addosso davvero oh io vado davanti e non guarda nessuno cioè possiamo trovare davanti da un secondo all'altro sai? si lo so che cazzo è? ma quanti cazzo mi mancano? era lei che ha respirato però se respira così vuol dire non si musica vuol dire Sto facendo andare il cazzo di Clorioni, dov'è l'ultimo simbolo? Non lo so! Dio santo! Ma qui c'è, abbiamo già trovato qua dentro Ho le gambe che, aspetta che però apri la porta Ragazzi c'ho le gambe che stanno tremando, giuro Sinistra SEMO! Te lo faccio mangiare La porta, la porta, la porta, la porta, vada la porta La porta? Cazzo di sopra ad aprirla Eh, no Si apre Magari non ti fanno zona sicura Ma quando mai? Quanti cazzo ne mancano? Uno Guarda il limbo che è lì Ma dove cazzo è? Eccolo, eccolo Forza Forza ragazzi Va a prendere il coltello? Per me sono un jumpscare Dai, dai prendi il coltello Cosa se lo facciamo adesso? Non lo so Oh Ma coppalo! Coppalo! Il rumore di sorprofono Dai, lascia il pelle L'abbiamo colpito quanto pare Prego di me che è morto Prego di me che è morto Quanto pare sembra No, non è vero Ma non lo sarà mai Per me, per me si rialza il gioco Beh, sembra morto Ma la vera domanda perché tieni un coltello in una vitrinetta? Ragazzi mi è finito il gioco Ma diciamo No, non è vero, sarà solo l'inizio Ok ragazzi, direi che per questa puntata può bastare qua Se il video vi è piaciuto Lasciate un mi piace A quanto pare è finito E' finito Siamo sopravvissuti E abbiamo avuto solo due infarti E' finito Questa puntata termina qua, come la serie spero Quindi se il video vi è piaciuto lasciate un commento Mettete un mi piace Iscrivetevi E noi ci rivediamo al prossimo video e spero di no Ciao ciao